commenta il fatto del giorno enzo del rico direttore del corriere del mezzogiorno oggi parliamo del testamento spirituale di einstein e della guerra che abbiamo intorno per comprendere fin in fondo la portata del manifesto einstein russell bisogna pensare a cos'era il mondo nel 1955 ossia un ostaggio nelle mani delle due superpotenze che si fronteggiavano mettendo in campo il in campo il rischio dell'olocausto atomico oggi le bellissime parole di quel manifesto anche un piccolo ma straordinario pezzo di letteratura devo dire possono apparirci romantiche con con questo invito rivolto a tutti gli scienziati del mondo a riunirsi intorno a un tavolo per scongiurare la fine del mondo minacciato appunto dal dagli armamenti nucleari però all'epoca quelle parole che oggi ci appaiono romantiche idealistiche furono taglienti come solo la verità sa essere oggi che siamo nell'anno di grazia 2017 gli armamenti auto atomici tornano sulla scena con gli esperimenti nella corea del nord ad esempio ma il mondo sembra ostaggio di un'altra guerra molto più insidiosa e che non è più un pericolo ma purtroppo è una realtà con la quale conviviamo ogni giorno è una guerra che nel 1955 nessuno avrebbe mai immaginato perché è oltre gli schemi convenzionali dell'epoca è la guerra che si combatte ogni giorno nelle strade e che vede noi cittadini inermi dei paesi occidentali senza alcuna divisa senza alcuna arma diventare bersaglio di un esercito che non conosciamo che tra l'altro spesso si muove intorno a noi dentro di noi nelle nostre città sotto bersaglio è il nostro stile di vita e questo viene il fatto che noi viviamo come è considerato un atto di guerra dal radicalismo islamista che tutt'altra cosa dall'islam la nostra resistenza non è non può essere altro che quella di continuare tenacemente a seguire il nostro stile di vita siamo partigiani senza divisa come dicevo prima difendono che difendono la propria libertà continuando a continuando ad andare ai concerti a cena con gli amici in un bar a bere una birra insomma tutto quello che facciamo ogni giorno questa è la nostra resistenza e in fondo facciamo null'altro di quello che suggeriva in quel manifesto del 1955 joseph joseph ratblatt ossia l'unico scienziato che rinunciò per una scelta morale a partecipare al progetto manattan che quello che diede vita alle prime bombe atomiche negli stati uniti ecco scrisse ratblatt in quel manifesto ricordatevi della vostra umanità e dimenticate il resto ecco questo è quello che noi facciamo ogni giorno continuando a vivere nonostante la guerra che abbiamo intorno